Pronti per un nuovo appuntamento milionario? È il momento dell'estrazione di Eurojackpot. Le operazioni sono iniziate. La prima urna elettronica è stata caricata. Le 50 sfere numerate sono pronte per il mescolamento automatico e l'estrazione. Il primo numero della nuova combinazione vincente di Eurojackpot viene estratto ora. Il primo numero è 29. Ecco il secondo numero di questa sera. Il secondo numero estratto è il numero... 43. Siamo ora al terzo estratto. Ed è il numero... 36. Quarto numero di questa estrazione. Eccolo. È il numero... 22. Siamo arrivati alla quinta sfera estratta, che potrebbe assegnare vincite milionarie se associata ai due euro numeri. Il quinto numero estratto è... 38. E' giunto il momento dell'estrazione dei due euro numeri, che potrebbero assegnare il jackpot in palio questa sera. Abbiamo il primo euro numero della nuova combinazione vincente di Eurojackpot. E' il numero... 6. Il secondo euro numero completa la combinazione di Eurojackpot di questa sera. Il secondo euro numero è... 1. E' il momento di scoprire la combinazione vincente. 22. 29. 36. 38. 43. I due euro numeri sono... 1. E... 6. Controlliamo i risultati di questa estrazione e le quote di tutte le categorie di vincita. Questa sera non è stato realizzato il 5 più 2. Ma sono state numerosissime le vincite sia in Italia che in Europa. Molti giocatori sono stati premiati con vincite straordinarie. Se non è toccato a voi, non perdete la speranza. La prossima estrazione sarà venerdì. Come ogni martedì, la combinazione vincente da scoprire raddoppia. Oggi è infatti il giorno anche di un'altra grande estrazione. Quella di Super Enalotto. La caccia al jackpot milionario prosegue venerdì prossimo. Il jackpot in palio sarà pari a 92 milioni di euro.